www.pupazzi.com www.pupazzi.com L'epoca si sono fermati adesso Ma che portofino? Questo è Capri N60 Qualmattro del professore ci ha mandato nel futuro? Ma è una cosa stupenda, è come vivere uno film di fantascienza A spasso nel tempo, una valanga di avventure e di risate al cinema Grazie a tutti Grazie a tutti